Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono 5 km di coda per un incidente tra Firenzuola e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. Spostandoci in FIPILI, personale sulla strada per lavori tra San Mignato ed Empoli Ovest in entrambe le direzioni. Per quanto concerne le statali, sulla Aurelia lavori tra Grosseto Est e Grosseto in direzione Nord. Sulla 62 della Cisa lavori circa 3,5 km prima di Pontremoli in entrambe le direzioni. Lavori anche sulla statale 223 di Paganico tra Campagnatico e Capannelle in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!